La scuola Sandro Penna incontra i giusti di ieri e quello che verranno. Loreta Mastro-Lonardo, presidente della FIDAPA. Questa è una manifestazione particolare alla quale teniamo tantissimo, anche perché abbiamo un ospite molto importante. Abbiamo un cittadino onorario di Battivaglia, Giorgio De Canino, che è un ricercatore dei giusti dell'umanità. Lui ha dedicato la sua vita, d'altra parte è un ebreo, e quindi è una persona che sulla sua carne ha sentito e ha visto e conosce la sofferenza di quegli anni. Lui è uno che ha ricercato i giusti. Quindi ci ha portato a Battivaglia delle importantissime testimonianze, i palatucci e quant'altro, e proprio una sua ricerca personale. Noi abbiamo preso spunto dalla sua presenza, che sarà qui tre giorni, e al mattino si incontrerà con i ragazzi. Oltretutto lui era un amico personale di Sandro Penna, per cui ha questo piacere enorme nel coinvolgersi con i ragazzi del Sandro Penna. Il pomeriggio invece incontrerà la città, qui nel palazzo di città, insieme al sindaco, all'assessore alle politiche sociali, con la quale abbiamo vissuto insieme a questo momento, che speriamo molto importante. Per noi come FIDAPA, tutta l'organizzazione è di Marosa Conforti, una nostra socia. E ascoltiamola proprio, la referente del progetto. I giusti di ieri e quelli che verranno perché? I giusti di ieri sono per esempio la città di Campagna, che è medaglia d'oro della Repubblica e che viene appunto adottata dalla scuola Sandro Penna. È un omaggio, voglio dire, ad una città che si è distinta per un elevatissimo senso di solidarietà e di fratellanza umana, quando in quei giorni bui, sulla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli internati nel campo di concentramento di Campagna furono aiutati largamente dalla popolazione, che sfidò minacce di rappresaie, di punizioni, pur di dare una mano a queste persone. E i giusti che verranno perché? I giusti che verranno e che sono al momento i giusti, sono per esempio i ragazzi dell'Istituto Besta Gloriosi di Battipaglia, i quali fanno parte di un progetto, è la Banca del Tempo Sociale, e che spendono una parte del loro tempo per stare accanto a dei ragazzi autistici seguiti dalla cooperativa Il Giardino dei Libri. E quindi anche essi sono una testimonianza di sensibilità, di solidarietà fortissima. E voglio solo aggiungere un'ultima cosa. Il progetto nasce anche con un altro spirito, che non è solo quello della mera testimonianza, del mero ricordo, della mera memoria. Noi pensiamo che la memoria debba essere anche passaggio di testimone, e questo è fondamentale, tra generazioni. Grazie.